Attualità politiche, analisi economiche, lavoro e formazione, innovazione tecnologica e nuove competenze professionali. È ruotata intorno a questi temi la tredicesima edizione della Summer School di Confartigianato che si è svolta a Roma il 10 e l'11 settembre. Oltre 200 i dirigenti dell'associazione di categoria a confronto. Presente inoltre il ministro dell'economia Giovanni Tria che ha anticipato alcune linee della manovra di governo. Noi rimarchiamo un aspetto e c'è l'importanza della piccola e media impresa che costituisce l'ossatura di questa nostra Italia e di questo nostro manifatturiero in particolare. Per cui noi pensiamo che debba essere sì tenuto ben conto e presente di quelle che sono le aliquote IRPEF che sicuramente il peso fiscale ha la sua importanza nell'attività ma ancora di più per lo sviluppo e per quello che è appunto il progresso delle imprese, la crescita delle imprese conta secondo noi la sburocratizzazione. La sburocratizzazione che di per sé ricordo veramente non avrebbe nessun tipo di costo per lo Stato ma servirebbe sicuramente come ottimo volano per il rilancio delle imprese e per poterle liberare da quelle zavorre che ne opprimono in maniera pesante. La Summer School è stata anche l'occasione per presentare alcuni studi come quello sul sociale e la nascita di una nuova società per il welfare targata a Confartigianato. Confartigianato anche in questa occasione non ha potuto non constatare che cosa sta succedendo. Una grande aumento della disparità tra i ricchi e i poveri, vale a dire sono sempre maggiori il divario e sempre minore sono coloro che stanno bene, coloro che si possono considerare ricchi e sempre maggiore e sempre meno disponibilità coloro che sono considerati poveri. Se pensiamo che dieci famiglie detengono oggi in Italia il corrispondente valore di 6 milioni di poveri già abbiamo un quadro più chiaro. Noi pensiamo che sia necessario poter ridistribuire meglio anche questa ricchezza perché con un esempio molto banale per muovere l'economia occorre ovviamente promuovere i consumi. Riattiviamo ovviamente non soltanto il consumo ma anche conseguentemente la produzione. Confartigianato in questa direzione ha costituito una società che è Nuovo Welfa e che serve soprattutto andare incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie, le esigenze di coloro che operano e lavorano nei nostri settori ma non soltanto è un impegno che andrà trasversale e che vedrà coinvolti anche partner privati che sono e operano al di fuori del nostro sistema associativo. Un impegno grande su tutto il territorio nazionale e a cui Prato ha risposto immediatamente. E a proposito del distretto pratese se da un lato si registrano dati positivi dall'altro si rilevano segnali preoccupanti sui quali è necessario porre l'attenzione. Prato come al solito è un caso particolare. Da una parte ci dà dei numeri veramente interessanti e confortanti. Uno fra tutti è la prima provincia per i livelli occupazionali delle piccole imprese. Noi siamo oltre il 40% come valore di capacità occupazionale per le piccole e medie imprese rispetto a tutte le altre province italiane. Questo comporta una dinamicità ovviamente nell'attività e nello svolcimento del lavoro e nel fare impresa a Prato. Comporta anche delle problematiche. Qui apriamo un capitolo doloroso. Problematiche relative alla ricerca di mano d'opera. Sta succedendo che rimane sì sempre più difficile trovare mano d'opera qualificata ma anche mano d'opera non qualificata e questo comporta per la stagionalità di quello che produciamo a Prato il ricorso troppo spesso da parte anche di aziende italiane di un sistema che prima faceva parte prevalentemente o apparteneva prevalentemente all'attività di una comunità orientale. Quindi lo sfruttamento delle persone. Utilizzare persone non inquadrate correttamente se non addirittura o parzialmente a nero. Questo crea una forte disparità interna al nostro distretto perché per recuperare un po' di redditività o per poter essere ancora competitivi molto spesso anche aziende italiane fanno ricorso a questo tipo di soluzione che è una soluzione ovviamente da condannare, da contrastare ma che può essere fatto solo con una crescita a un livello culturale che purtroppo non sempre è accompagnato anche da provvedimenti di carattere pubblico.